Amici all'ascolto e in visione, questa è gara 4 della finale Scudetto Softball che inizia con il Des Caserta in vantaggio 2 gare a 1. Vedete la formazione campana radunata sulla pedana di lancio attorno a Mara Papucci che è il pitcher partente di questa gara numero 4, il resto della formazione campana, Rezza gioca a ricevitore in diamante, spacciante in prima, seguella in seconda, Lanzieri in terza che è giocatore designato e Cox all'Inter base. Gli esterni sono a sinistra Lepre, al centro Cimin e a destra Merzliakova. Il primo battitore della formazione del Fiorini Forlì è Eva Trevisan che gioca a ricevitore, il resto del line-up Sanchez, prima base, Bedwell esterno centro. Detregg esterno destro, Stefania Vitaliani interbase, Michele Vitaliani terza base, Michele batte solamente il giocatore designato, poi Del Mastio seconda base, Turci esterno sinistro, il lanciatore è Leslie Maleric. Conte di due strike su Trevisan, Papucci ha quindi iniziato piuttosto bene questa partita, la lanciatrice toscana è pronta al terzo lancio, una palla a bolla esterna, ha quindi la possibilità di dare il colpo di grazia al Forlì, il Des Caserta, primo match point della serie Scudetto. Ricordiamo che la squadra che detiene il titolo, vale a dire il bollate, non è in campo, quindi la successione è già iniziata, Trevisan batte sul seconda base, l'assistenza di Seguella per il primo out in prima. Si apre con questa eliminazione quindi la gara del Forlì, discreto contatto di Trevisan, ma nonostante una piccola incertezza di Seguella l'eliminazione è piuttosto netta. Vedete un'altra delle caratteristiche del softball, la doppia base in prima, il cuscino rosso è quello di riferimento del corridore, quello bianco è di riferimento del difensore, è una novità introdotta per evitare scontri e anche per una più chiara definizione dell'arrivo in prima in uno sport che di arrivi chiusi ne propone moltissimi. Ball, Melissa Sanchez nel box di battuta, Mara Papucci vedete abbastanza attesa, Sanchez nel box per la prima volta in questa notturna, batte in foul e si carica così del primo strike. Un poderoso giro di mazza di Melissa Sanchez che tende ad avventarsi su quelle basse interne che evidentemente entrano in quella che è la sua zona di potenza. Strike su Melissa Sanchez, Papucci, un cambio di velocità che non arriva al piatto di casa base, abbiamo il ball, l'arbitro Olivieri a casa base. Slari dei papucci. Ed è Melissa Sanchez fuori del box di battuta. Pronta Papucci al lancio su Sanchez, che è alto. Melissa Sanchez nel box di battuta, Mara Papucci in pedana, altro lancio ball ed è la base per l'americana, primo corridore della partita da arrivare in base, Melissa Sanchez. Alla battuta si porta Christine Bedwell, l'altra straniera del Forlì. Mara Papucci ha concesso quattro ball, si prende un respiro profondo e ora si appresta ad affrontare Bedwell. Lo fa con un lancio strike nella zona esterna del piatto. Vedete che però questi esercizi di top spin sulla palla, Papucci non so se interpretarli come un modo di prendere confidenza con la palla o per scaricare la tensione. A Zecca però il secondo strike qui. Mara Papucci ha deciso di onorare i colori sociali nell'acconciatura, come vedete. E' molto molto tesa la lanciatrice del Caserta, che ovviamente si augura sia una tensione positiva. Non l'ha presa tanto bene Bedwell, è questa chiamata di strike, che vedete l'arbitro Olivieri ricorda. Papucci è in mezzo al piatto per lo strike out che chiude questo primo turno, anzi no, che ottiene il secondo out di questo primo turno d'attacco della formazione del Forlì. Rimediamo, palla proprio che cade in mezzo al piatto presa sul tempo, Bedwell che se ne rende conto lei stessa. Due fuori, c'è un tentativo ora di rubata, colta nettamente dal tiro di Rezza Melissa Sanchez. Ora sì, si chiude con un lancio solo nei confronti di Detrage, il primo attacco del Fiorini-Forlì senza punti e senza valide. Primo attacco anche per il Des Caserta, che presenta questo line-up, Merziacova esterno-destro, Cimini esterno-centro, Francolini giocatrice designata, spacciante prima base, Leprei esterno-sinistro, Papucci lanciatore, Rezza ricevitore-Seguella, seconda base Cox interbase, lanzieri, gioca in terza ma non batte. Vedete col numero 28 Leslie Maleric, il lanciatore partente della formazione del Forlì, che ha come catcher Trevisan, poi la difesa vede Sanchez in prima, Del Mastio in seconda base, Michela Vitaliani in terza, Stefania Vitaliani in terza, base gli esterni a sinistra, Turci, al centro Pedwell e a destra Detrage e Maleric appunto non batte nella formazione del Fiorini-Forlì, inizia con un ball, la lanciatrice italo-americana della Fiorini, numero uno della nazionale all'ultimo mondiale, Maleric ha disputato un mondiale strepitoso, era iniziato male il torneo, mentre batte sul terza base, Merziacova l'assistenza in prima per il primo out, diceva era iniziato male il torneo mondiale per l'Italia, sconfitta di misura dalla Cina e poi successivamente in altre partite, soprattutto pesante la sconfitta con la Nuova Zelanda, poi le italiane però sono riuscite con le tre vittorie finali contro la squadra e soprattutto quelle contro la Corea e la Gran Bretagna a qualificarsi per la fase successiva a eliminare nella prima gara a confronto diretto il Venezuela, piazzandosi alla fine sesta e Maleric, anche a causa dell'assenza dell'ultima ora di Elisa Birocci, è stata praticamente la lanciatrice partente di tutte le gare, affronta ora Cimin, due strike a zero, ecco Leslie Maleric, giocatrice arrivata originariamente a Parma e poi trasferita a Forlì, Bolli, lancio, la lanciatrice specializzata nel cosiddetto rise, qui prova con una palla d'effetto esterna che viene toccata in foul, lanci molto più veloci rispetto a quelli delle sue colleghe viste in campo fin qui, compresa Detrec, Maleric, torna in pedana Leslie Maleric, batte Cimino, una palla che si impenna, Bedwell è ben piazzata, raccoglie al volo e ottiene la seconda eliminazione di questo primo turno d'attacco del Des Caserta, 0-0 il risultato, ricordo nella serie in vantaggio 2-1 invece la formazione del Caserta, che quindi ha il match point, nel senso che la serie, al meglio delle cinque partite, si chiude quando una delle due squadre ne vince tre, Bolli, il battitore Francesca Francolini, secondo lancio di Leslie Maleric, va a vuoto, Francolini, primo strike, Maleric, altro strike sulla zona esterna del piatto, Francolini perplessa, è pronta il caricamento Leslie Maleric, Boll, rimane fermo l'arbitro Olivieri, questa volta perplessa il catcher della formazione di Forlì, Trevisan, Maleric, il sorriso tirato, evidentemente anche lei si aspettava qualcosa di meglio, Leslie Maleric, batte Francolini, il conto resta invariato, Maleric ci ricorda ripetutamente alla sua difesa che ci sono due eliminati, pronta la lanciatrice della nazionale, batte in faula ancora una volta, Francolini è la prima apparizione, siamo sullo 0-0 al primo attacco Caserta, cambio di velocità che lascia di sale, Francesca Francolini il terzo strike, primo eliminato al piatto ottenuto da Maleric, e dopo una ripresa completa il punteggio di 0-0. La sintesi ci porta alla seconda ripresa, in attacco c'è il Caserta, nella sua frazione il Forlì ha passato di fronte alla lanciatrice avversaria Papucci, solo tre battitori, un altro strike out per Papucci, deve ancora battere valido il Forlì, questa è Simona Spacciante, anche il Caserta deve ancora battere valido, Maleric ha per il momento affrontato solo tre giocatori, Leslie Maleric è pronta al caricamento su Spacciante, Boll, giocatrice di ottima potenza, ha anche ottenuto un fuoricampo in gara 3, la prima partita disputata a Caserta, ricordo che il Dess, che è anche oggi in maglia bianca, mentre il Forlì è in completa tenuta azzurra, conduce la serie 2-1, batte Spacciante sull'Inter, base e problemi per Stefania Vitaliani, che davvero fa fatica a piegare la schiena, in questo caso un errore abbastanza clamoroso, e vedete Spacciante prepara la ginocchiera, il salva scivolata, per l'eventualità di dover arrivare in seconda in scivolata, errore difensivo del Forlì, e alla battuta si porta Lassie Leprej, che in gara 3 è stata decisiva, con un doppio e due punti battuti a casa, e alla prima apparizione di fronte a Leslie Malerich, primo lancio della Malerich, un buon lancio sul filo esterno per lo strike, ecco Leprej, mentre Leslie Malerich si appresta il caricamento, palla che praticamente picchia contro il pomello della Mazza, abbiamo il secondo strike, da molto ritmo la partita, di Leslie Malerich, al contrario di De Santa e di Death Rage, che tendevano in gara 3 a prendere molto tempo, tra un lancio e l'altro, Malerich, c'è una richiesta di time out, avete visto lo sguardo interrogativo di Malerich, Leprej, che è sotto di due strike, si ripresenta nel box, mostra il bant Leprej, poi spedisce la palla in foul, quando l'arbitro alza, avete visto ambedue le braccia, indica che la battuta è in foul, perché questa gara è stata giocata il 7 di ottobre, c'è una temperatura sostanzialmente estiva a Caserta, e lo si nota dall'abbigliamento del pubblico sugli spalti, gara giocata alle 21, anzi alle 20 e 30, comunque in notturna, Malerich, a vuoto, è strike out, la giocatrice Leprej, mentre avete visto poi Travis anche cerca di eliminare in prima, spacciante, Leprej torna nel dug out, e alla battuta, con situazione di un eliminato, si porta Mara Papucci, lanciatore avversario, Malerich, vedete sul petto delle giocatrici del Forlì, la coccarda che segnala la vittoria della Coppa Italia, Malerich, tenta il bant, ma va a vuoto Papucci, viene intrappolata intanto sulle basi spacciante, che è toccata, avete visto da Sanchez, per l'eliminazione, si è fatta cogliere lontana dal cuscino, e abbiamo così il secondo out, un pochettino regalato dal Caserta al Forlì, due out, Papucci e la battuta, Malerich, ball esterno, Mara Papucci numero 6 di maglia del Des Caserta, prima stagione per l'Ein Campania, e lancia a casa di Malerich, gira vuoto Papucci, e abbiamo il secondo strike, Malerich, va a vuoto ancora Papucci, lontanissima dalla palla, terzo out e terzo strike out per Leslie Malerich, 0-0, dopo la ripresa d'attacco numero 2 del Caserta, terzo attacco del Forlì, vedete il Des Caserta stretto attorno a Mara Papucci sulla pedana di lancio, non ci sono ancora state valide in due riprese di gioco, e l'inning inizia con la numero 31 Susanna Macchelli, nel box di battuta per il Fiorini, in pedana di lancio, Mara Papucci, pronta al caricamento, Bolli il lancio, aveva quasi dato l'impressione di voler tentare una giocata di Bant, la Macchelli, ecco Mara Papucci inquadrata, gira qui la mazza decisamente, Macchelli si carica del primo strike, 1-1, pronta al caricamento, Papucci, Bolli, vedete che l'anziere, il terzo a base del Caserta, arriva fin sul piatto di casa, aspettandosi una giocata corta, due bolle e uno strike nei confronti di Macchelli, Papucci pronta al quarto lancio, batte Macchelli, una palla che però sembra destinata al foul ball, così è, torna nel box di battuta, Susanna Macchelli, pronta a Mara Papucci, palla bassa, si fa il suo giretto attorno alla pedana di lancio, Papucci, vedete il conto è pieno su Macchelli, a lancio decisivo, battuta verso la seconda base, ci arriva Seguella, ma il tiro è in ritardo, e Macchelli che ha buone gambe, arriva salva in prima, valida interna per Susanna Macchelli, la prima valida della partita, siamo alla prima metà del terzo inning, di una gara che si sta dimostrando molto equilibrata, vedete il softball non consente di andare a giocare la palla molto lontano, proprio per la ridotta distanza tra casa base e la prima, vedete l'arbitro Magnani che in questa gara numero 4 dirige l'incontro in prima, chiama il salvo, prima valida, non ci sono eliminate, la battuta si porta del Mastio, ecco Mara Papucci, il bant eseguito da Del Mastio, sacrificio, avete visto Seguella coprire la prima base, Del Mastio fa quindi avanzare in seconda Macchelli, ed è il primo out della partita, Sabrina Del Mastio, giocatrice azzurra, intesa come facente parte della nazionale italiana, vedete, bant per terra, nessuna possibilità di gioco verso la seconda, molto vicina a casa base, ma spacciante, raccoglie assist in prima per l'out, giocato di sacrificio con Macchelli in seconda, si porta la battuta a Turci, altro bant, eliminazione in prima, porta quindi il corridore in terza, con questo band di Turci, il Forlì, avete visto la palla su Papucci, che va per l'out in prima, ma ora ci sono due out, alla battuta è vero, si porta Trevisan, ed è altrettanto vero, che nel softball il corridore in seconda, non è da considerarsi in zona appunto, sicura, su una valida, come accade nel baseball, anche perché gli esterni, in assenza di solito, di molte battute lunghe, verso la recensione, tendono a giocare in queste situazioni molto avanzate, un ball, Eva Trevisan, cresce l'incitamento dei tifosi di Forlì, pronta in pedana di lancio, Mara Papucci, batte Trevisan, una palla che si impenna, corre spacciante, e non riesce, avete visto, a raccogliere la palla al volo, sarebbe stato l'out, capace di chiudere questo, terzo attacco del Forlì, che ricordiamo ha in terza base, Macchelli, e va Trevisan alla battuta, pronta al caricamento, Papucci, Ball, dice l'arbitro, avrebbe sperato in qualcosa di meglio, Papucci, che certo aveva trovato un buon angolo qui, Trevisan alla battuta, il turno precedente eliminato dal seconda base, ci sono due out, quindi deve arrivare salva per far proseguire l'attacco del Forlì, il rise di Mara Papucci è alto, tre ball, Papucci, ecco il quarto ball, Trevisan guadagna la base, abbiamo quindi ora il corridore agli angoli, cosa che rende abbastanza varia la possibilità di strategia dell'allenatore del Forlì-Rof, che può decidere di tentare di rubare la seconda, e vedere cosa succede, o far partire addirittura una doppia rubata, gioco peraltro molto difficile da eseguire nel softball, il battitore Melissa Sanchez, quindi una situazione abbastanza ideale, diciamo, a livello di punti battuti a casa, e Papucci nel primo momento problematico della sua partita in pedana, pronta al lancio, a vuoto Sanchez, uno strike, pubblico di caserta in città Mara Papucci, che cerca la concentrazione fuori dalla pedana, Sanchez, vedete, in questa partita ha ricevuto la base bolla al turno precedente, ora incassa il bolla esterno, uno-uno, deve tenere sempre il sotto controllo, in terza base, Macchelli, il catcher della caserta Rezza, pronto, il caricamento di Papucci, la battuta di Sanchez, in foul, quindi strike numero due, nei confronti dell'americana del Forley, un ball due strike, avete visto il conto, Mara Papucci, pala esterna, due ball, due strike, ed ecco Mara Papucci, arriva il terzo bollo ora su Melissa Sanchez, conto pieno, ecco Sanchez, avremo un lancio decisivo, ricordiamo che ci sono corridori agli angoli, Travis ne imprime, Macchelli in terza, quindi una valide di Sanchez, può fare molto male al caserta, che è in vantaggio 2 a 1 nella serie, mentre questa partita è ancora sullo 0 a 0, vedete che Rezza dialoga con il signor Olivieri, basta uno strike per chiudere l'inning, così come basta un giro di mazza a Sanchez, per portare in vantaggio Forley, Papucci, batte Sanchez, foul ball, conto che ovviamente non può cambiare, se bisogna di confrontarsi per i due arbitri, Olivieri Magnani, segnala la difesa a Rezza, che sono due gli eliminati, e Sanchez torna nel box di battuta, Papucci, la battuta di Melissa Sanchez, è direttamente nel guanto di Seguella, si chiude quindi questo terzo attacco del Forley, senza punti, con una valide e due rimasti in base, il punteggio resta di 0 a 0. E con la sintesi siamo alla quarta frazione d'attacco del Forley, il Caserta nel corso della sua terza presenza in battuta contro Maleric, ha velocemente fatto passare tre battitori, Maleric ha già ottenuto quattro strike out, e non ha ancora concesso valide. Christine Bedwell inizia nel box di battuta, si è reso pericoloso per la prima volta Forley al terzo inning contro Papucci, che ora affronta l'americana, che gira vuoto su questa palla esterna, soddisfatta, vedete Mara Papucci, battitore mancino, affrontato nella zona esterna con un lancio lento, una valida fino qui per la verità soltanto per Forley contro Mara Papucci, che sta quindi tenendo perfettamente il duello con Maleric, ora però la palla arriva molto bassa a casa base, hanno deciso di giocare con pallelente Bedwell, che in questa gara è finita al piatto, al primo inning, 0 su 1 quindi per lei, il rendimento, nella quarta partita di finale, 2 a 1, ricordo il vantaggio nella serie di Caserte, 0 a 0 il punteggio, Bedwell gira a vuoto, secondo strike con un ball, anzi è stato chiamato ball direi, ma indubbiamente ci poteva stare il giudizio di tentativo di colpire la palla qua, Papucci, il caricamento, a vuoto, qui senza dubbio, vedete che quel giudizio pesa abbastanza, sarebbe strike out Bedwell, che invece ha un'altra possibilità, è un giudizio dell'arbitro, se valutare se la giocatrice ha cercato di colpire la palla, oppure no su un lancio ball in questi check swing, Papucci, foul ball per Bedwell, che rimane quindi nel box, che chess takich ma Pucci, Bedwell batte una palla che supera la terza base, gira per la seconda Christine Bedwell ed è un doppio, particolarmente carico lo speaker del campo di Caserta, vedete Bedwell che mostra il bant, qui c'è un errore di Pappucci, palla troppo centrale, Bedwell colpisce, e nonostante non sia una velocista arriva fino in seconda, prima valida da extra base della serata e seconda valida in totale ottenuta dalla formazione del Forlì, pronta per il bant, la squadra in attacco con Detrage, Forlì che presenta il suo quarto battitore in questa situazione di punto battuto a casa, ecco Mara Pappucci, però ancora il bant senza successo a Detrage, questa è una strategia che sembrerebbe sparagnina nel baseball, il quarto battitore che va a cercare un bant in sacrificio con corridore in seconda e zero out, nel softball è ritenuta molto più normale, anche se non è che il bant sia l'unica maniera di spostare avanti i corridori, mostra ancora il bant, Detrage, manca ancora la palla! secondo strike sull'americana Mara Pappucci, vedete, Detrage intanto batte in foul avete sulla parte bassa dello schermo il corridore in seconda del Forlì, vale a dire Bedwell Mara Pappucci a vuoto Detrage, strike out è il successo personale numero 3 per Pappucci che ottiene quindi il primo eliminato di questa quarta frazione d'attacco della formazione romagnola alla battuta con corridore in seconda si porta Stefania Vitaliani, l'interbase del Forlì ecco Mara Pappucci il lancio a casa boll il lancio boll 1-0 su Vitaliani uno fuori inquadrata Stefania Vitaliani in seconda Christine Bedwell mostra il banter Stefania Vitaliani vedete Bedwell pronta a scattare dal cuscino parte Bedwell il tiro di Rezza la palla sfugge alla difesa della Caserta Bedwell è in terza base rubata quindi e molto vicina al punto era la formazione di Forlì Bedwell è in terza un solo out torna vedete in possesso della palla in pedana Mara Pappucci la battuta sul lanciatore che la tocca col guantone deviandola verso l'interbase che prende al volo giocata particolarissima anche un po' fortuita per non dire fortunosa vedete la battuta di Vitaliani devi a Pappucci a quel punto probabilmente Vitaliani crede di avere una valida invece la palla finisce a Cox che la coglie al volo gesto di sconforto del suggeritore di prima del Forlì abbiamo il secondo out e Bedwell deve rimanere ancorata il cuscino di terza sarà Michela Vitaliani a cercare di farla segnare in questo quarto attacco del Forlì sul punteggio di 0-0 batte subito Vitaliani palla che si spegne dietro Casabase per il primo strike Mara Pappucci ha concesso due valide finora una sola da extra base il doppio di Bedwell Michela Vitaliani imbattuta contro Pappucci uno strike Michela Vitaliani imbattuta seconda apparizione per lei che incassa il secondo strike al turno precedente al piatto Vitaliani contro Mara Pappucci che di strike out ne ha ottenuti tre fino a qui pronta il caricamento Pappucci batte una palla molto alta Michela Vitaliani palla che non è in gioco e conto che rimane di due strike e un ball nei confronti di Michela Vitaliani mentre vedete Mara Pappucci torna verso la pedana di lancio ecco Michela Vitaliani Pappucci dalla posizione frontale batte Vitaliani palla altissima Cox fa buona guardia coglie al volo e pone fine al quarto attacco del Forlì che nonostante il doppio d'apertura di Bedwell non segna e il risultato è fermo sullo 0-0 di partenza la sintesi ci porta al sesto inning attacca alla formazione del Forlì che ha avuto al quinto inning ha battuto al quinto inning un'altra valida con Turci ma l'azione si è fermata in prima un paio di volte al quarto e al quinto inning è arrivato in seconda invece il Caserta con Cimina al quarto e con Pappucci al quinto in base rispettivamente su valide d'errore ma in entrambi i casi la situazione era di due eliminati e la battuta ora si porta Melissa Sanchez 0-1 più una base ball per il bomber della formazione in maglia azzurra del Fiorini in Forlì gara quattro della finale Scudetto 2006 del softball con Caserta che è in campo con la maglia bianca vedete il lanciatore Pappucci in vantaggio 2-1 in cassa il bollo ora Melissa Sanchez Pappucci ottima partita fino qui ha concesso solamente tre valide una base ball e ha ottenuto tre eliminati al piatto ecco la Mara Pappucci prima stagione per lei a Caserta è diventata lanciatore partente dopo che Elisa Birocci stagione disgraziata per l'italo-americana ha subito un infortunio e ha poi deciso di chiudere anticipatamente la sua stagione con una certa qual sorpresa anche per la Nazionale Azzurra che su di lei contava parecchio Nazionale Azzurra che l'anno scorso con Birocci come pitcher di punta ha conquistato il finale della Coppa Intercontinentale perdendo poi con gli Stati Uniti e ha vinto il suo settimo campionato europeo di fila pensate che sono 14 anni che l'Italia nel softball è campione d'Europa in pedale di lancio Mara Pappucci che di questi europei uno l'ha anche vinto come lanciatrice principale parliamo dell'Europeo 2001 pronta il caricamento Pappucci batte Melissa Sanchez e la palla non viene giocata bene dall'interbase della caserta Cox arriva in prima Sanchez rivediamo cosa accade palla che sfugge vedete e poi quando Cox riesce a realizzare il tiro Sanchez è abbondantemente già arrivato in prima è un errore però secondo il classificatore alla battuta si porta ora Bedwell che ha battuto un doppio al turno precedente ed è a 1 su 2 sesto inning la penultima opportunità per il Forlì a vuoto Bedwell sulla palla esterna uno strike pronta il caricamento Pappucci interna questa palla uno uno Mara Pappucci palla bassa secondo ball con uno strike nei confronti di Christine Bedwell ecco Pappucci in pedana di lancio palla molto vicina a Bedwell terzo ball con uno strike che è qualche scambio di sguardi tra le due giocatrici vedete l'arbitro Olivieri che indica i tre ball e uno strike e se nel baseball un lancio di questo genere in una gara di playoff avrebbe certamente suscitato qualche qualcosa di più di un paio di sguardi nel softball è molto difficile vedere non dico risse ma anche scambi di opinioni piuttosto accesi tra le giocatrici intanto Bedwell tocca questa palla lunga Cimin corre male la palla le rimbalza davanti Bedwell una battuta d'extra base arriva in seconda ma pesanti le responsabilità della difesa del Caserta una palla alta una difesa certo in questo inning tutt'altro che impeccabile la battuta di Sanchez non raccolta da Cox e ora questa alta volata vedete Bedwell Sanchez transita dalla seconda e va verso la terza e quando la palla cade anche Bedwell accelera non è proprio un esempio di legge adria nella corsa in terza Melissa Sanchez in seconda Bedwell momento molto difficile ora per il Caserta che si è complicato però la vita da solo in difesa Papucci tutto sommato aveva fatto battere male entrambe le avversarie e alla battuta si porta Detridge anzi mentre vedete gioca molto chiusa la difesa della Caserta c'è la sostituzione di Detridge con Irene Lolli che vedete inquadrata in seconda Bedwell in terza Sanchez in questo sesto attacco del Fiorini Forlì Irene Lolli ha la battuta Papucci prova il Bant la palla per terra ma in foul probabilmente inserita al posto di Detridge per la sua abilità ad eseguire il Bant cosa che Detridge non era riuscita a fare al quarto inning oltretutto nel softball è concesso il rientro quindi i cambi non sono definitivi un rientro è possibile farlo Irene Lolli ed ecco Mara Papucci pronta al lancio basso poi c'è il tentativo di far gioco che riesce perfettamente al Forlì che segna con Melissa Sanchez si è fatta trovare molto avanzata Sanchez quando però ha cercato di eliminarla la difesa del Caserta Sanchez è partita verso Casabase ed è arrivata a segnare vedete Rezza che tira e poi Sanchez parte decisa scontro a Casabase con la palla che finisce sulla schiena di Sanchez che rimane contusa a terra non ha giocato bene nemmeno qui il Caserta Rezza anziché avanzare verso Sanchez come la prassi vorrebbe cioè costringendola a tornare verso la base meno avanzata allontanarsi dal punto ha assistito Sanchez a quel punto è partita verso Casabase e ha finito col segnare gravi pesanti responsabilità sulla difesa del Caserta per il Forlì che passa in vantaggio per la prima volta in questa partita in generale nella seconda parte della serie Forlì ha perso 3 a 2 gara 3 e ora passa in vantaggio in gara 4 1 a 0 segna quindi Sanchez c'è Bedwell che ha seguito l'azione ed è in terza e Irene Lolli ha la battuta a questo punto dopo aver segnato il vantaggio di 1 a 0 lo squeeze play è ancora più probabile vedete come gioca chiusa la difesa della Caserta il bant c'è però gioco a casa l'arrivo di Bedwell mentre Lolli arriva in prima ed è chiamato out e poi Lolli va verso la seconda e viene eliminata anche lei più curioso dei doppi giochi difensivi anche Lolli rimane infortunata rivediamo doveva essere squeeze play la palla è per terra Bedwell si fa eliminare però a casa Irene Lolli arriva in prima visto che c'è gioca a casa base decida a questo punto di partire verso la seconda Rezza dopo aver eliminato Bedwell a casa assiste e vedete che Seguella elimina anzi è Cimini che è andata addirittura dall'esterno centro a coprire la seconda elimina Lolli che però arrivando a casa base ha battuto la faccia probabilmente contro il guantone di Cimini e si è infortunata in lacrime Irene Lolli che è il terzo auto di Lini che ha comunque visto Forlì arrivare a punto si è col guantone Cimini che non fa tanti complimenti colpisce al volto Irene Lolli ben due errori difensivi e un punto Forlì in vantaggio 1-0 dopo la prima metà del sesto non ha preso bene il Forlì il deciso intervento di Natalia Civin per ottenere il terzo auto e si è scatenato un mezzo parapiglia vedete gli arbitri cercano di riportare la calma e chiedono all'allenatore del Forlì di chiamare fuori dal campo i dirigenti che evidentemente hanno avuto qualche cosa a che fare in questi anni mi è riscaldati c'è anche il presidente del Caserta Tarabuso che allantana l'allenatore Cirelli insomma sembra che tutto possa tornare alla normalità Stefania Vitaliani è stata il terzo auto del sesto attacco del Forlì che si è chiuso col primo punto della serata e ora può iniziare il sesto attacco del Caserta vediamo se la formazione campana è in grado di reagire al primo punto subito e al primo svantaggio sul campo amico di questa serie di finale a Forlì una vittoria a testa poi vittoria 3 a 2 di Caserta in gara 3 e ora quarta partita che vede Forlì in vantaggio 1 a 0 due le opportunità per Caserta per pareggiare la partita sempre Leslie Maleric in pedana nelle prime 5 riprese Maleric ha subito una sola valida altri due arrivi salvi per errore e ha ottenuto 4 strikeout ora affronta April Cox che è schierata come nono battitore del line up campano Maleric pronta il primo lancio nei confronti di April Cox c'è stato appunto un momento di tensione per l'arrivo in seconda base di Lolli abbastanza comprensibile l'intervento è stato molto duro ora Cox batte una palla che supera il terza base arriva all'interbase molto veloce Cox che arriva a salva in prima nonostante l'allungamento di Melissa Sanchez ecco la April Cox rivediamo buona corsa anche se da un punto di vista strettamente teorico non è che faccia proprio una cosa corretta correndo in campo andando a pestare il cuscino bianco April Cox l'arbitro Pignolo potrebbe anche in questo caso chiamare in caso di arrivo più chiuso il salvo o l'interferenza Bant di Mertliakova out in prima l'assistenza di Maleric ma Cox è sul cuscino di seconda già in base il punto del potenziale pareggio ed esattamente in seconda Mertliakova col Bant Maleric vedete con il rise Mertliakova è brava ad aspettare la palla e a ottenere l'out e Maleric sa di non avere spazio per il gioco in seconda e va a eliminare in prima Mertliakova con Cox in seconda la battuta si porta Natalia Cimin che mostra un altro Bant incassa il primo strike abbastanza tranquilla direi Maleric ecco Natalia Cimin che è andata in copertura del cuscino di seconda e ha ottenuto l'out contestato su Lolli non tanto contestato per l'out che era netto ma per la durezza dell'intervento di Maleric che è andata la toccata proprio sul volto di Irene Lolli 1-1 indica un out vedete dietro a casa base Trevisan il catcher del Forlì c'è in seconda April Cox palla interna di Maleric 2 ball momento abbastanza importante della finale abbiamo visto che è stato chiesto dagli arbitri il cambio dello speaker che evidentemente lo speaker che era in servizio fomentava gli animi e intanto Cimin batte in foul situazione quindi di 2 ball 2 strike Nathalie in battuta Leslie Maleric in pedana è una importantissima azione della gara Maleric batte Cimin palla in foul conto quindi che non cambia e vedete Maleric che prende segnali dal catcher Travis cox sullo sfondo in seconda e lancio a casa batte Cimin palla sul prima base fa tutto Sanchez secondo fuori ma sull'azione cox avanza in terza buon lavoro qui di Sanchez in difesa una difesa del forlì che ha già commesso due errori in questa gara ma non ne ha pagato caro nessuno ora con cox in terza mentre rivediamo la battuta di Cimin un buon contatto e la difesa di Sanchez con cox in terza il forlì decide di passare in base intenzionale Francesca Francolini pericoloso battitore del caserta come sappiamo nel softball non è necessario lanciare la base intenzionale è sufficiente dichiararla così Francolini passa direttamente in prima corridori quindi agli angoli Francolini in prima e cox in terza Stefania Vitaliani va a parlare con Maleric che riceve la palla e decide intanto Caserta di sostituire Francolini che come sappiamo non è nelle migliori condizioni fisiche e va a correre sul cuscino di prima pardon sì sul cuscino di prima Franzò Franzò in prima cox in terza e è spacciante ad affrontare Maleric spacciante autrice di un fuoricampo nella terza partita fuoricampo che alla fine poi si è rivelato decisivo visto che la gara è terminata sul 3-2 contro Maleric Maleric ha concesso fino a qui due vali del singolo di Cimini del quarto inning e il singolo interno di Cox che abbiamo appena visto Maleric ball il primo lancio non la prende benissimo Leslie Maleric un ball a zero su spacciante 4-5 strikeout fino qui per Leslie Maleric spacciante nel box l'arbitro ha chiesto time out perché vuole pulire il piatto per non commettere eventualmente errori in un momento molto decisivo molto importante della serie Maleric ci osserva il segnale del catcher gira vuoto spacciante primo strike 1-1 ancora Maleric batte in foul spacciante secondo strike con un ball inquadrata spacciante il quarto lancio di Maleric un lancio che non inganna spacciante vale il secondo ball 2-2 Leslie Maleric gira vuoto spacciante sulla rise di Maleric strike out e si chiude senza punti anche il sesto attacco del caserta che pur aveva portato Cox fino in terza base 1-0 Forlì resta una sola opportunità alla formazione campana la sintesi ci porta al settimo attacco del Descazert ci sono due eliminati Leprei eliminata al piatto e Papucci che ha battuto direttamente sul lanciatore alla battuta Rezza incassa il primo strike al suo settimo attacco ha proposto di fronte a Papucci solo tre battitori il Forlì che continua a condurre comunque 1-0 ed è a due strike dalla vittoria in gara 4 che porta la serie di finale alla bella di gara 5 gira vuoto su Reza Rezza che in questa partita è finita due volte al piatto e ha ottenuto un sacrificio quindi sembra abbastanza in difficoltà contro Maleric ottima prestazione di Maleric che ha ottenuto sette strike out fino a qui concesso solo due vali del lancio palla centrale Rezza e strike out e gara 4 della serie di finale per lo scudetto del softball e storia vince il Fiorini Forlì 1-0 la serie è ora sul 2-2 e il titolo italiano si assegnerà alla bella e il titolo Grazie.